Noi, che meraviglia l'essere umano, capace attraverso l'arte di plasmare l'energia che lo circonde e dare vita alle emozioni, dipingendo un quadro, scrivendo una poesia, creando una scultura, una canzone, fissando un attimo fuggente in uno scatto fotografico, rendendolo eterno, e ogni creazione pulsa di una luce unica, quella della sua anima. Grazie